Allora, noi viviamo tutti nel mondo digitale e la cosa incredibile è che ci vive anche chi non lo usa perché in fondo anche chi non vuole stare sui social, chi non ha un telefono, in qualche modo la sua vita è influenzata dal mondo digitale. Lo è perché si può parlare di lui quando non c'è e non può rispondere, lo è perché si possono fare deepfake su di lui e diffonderli, lo è perché banalmente ogni cosa che fa durante la sua giornata è digitale, va al supermercato, le casse sono connesse e quindi per funzionare hanno bisogno di una rete, di internet, spesso va al banco, ma ovviamente anche quello è connesso, telefona, pensate che anche gli operatori utilizzano internet dietro, anche quando si fa una telefonata tradizionale spesso per trasferire la telefonata, quindi se internet non ci fosse non si potrebbe telefonare, anche il modo più analogico. La radio che apparentemente è analogicissima via FM in realtà per funzionare ha bisogno di reti, di internet e banalmente i contenuti arrivano da lì. E allora insomma è una vita che non solo è influenzata da tutta, che influenza tutti, ma è anche in continua evoluzione. L'abbiamo visto in questi anni, io sono un pioniero, avevo iniziato 35 anni fa a occuparmi di questo come programmatore e poi via così, però negli anni è successo tutto quello che sappiamo fino adesso e quindi chiaramente è un continuo sia dal punto di vista delle persone, hanno nuovi strumenti, nuove cose, sia dal punto di vista delle aziende che oggi non possono farne a meno se vogliono competere nel mondo e anche dal punto di vista chiaramente delle istituzioni, che devono supportare la crescita e le opportunità che dà questo. E abbiamo molte istituzioni in Italia che lo fanno. Ovviamente ACN, ma adesso ci arrivo, anche il Dipartimento per la trasformazione digitale guidato da Alessio Butti si occupa di questo. Ci sono la polizia postale con il lavoro che fa, con le persone. Io personalmente ricevo migliaia di segnalazioni al giorno, grazie ovviamente all'esposizione mediatica su questi temi, non osi immaginare poveri cosa ricevono loro, per non parlare del fatto che sono bravissimi, ma allo stesso tempo il mondo è grande, quindi si può legiferare, si può fare qui, ma in una penisola con un dittatore diversamente democratico, poveri, non è che possono fermare il contenuto di phishing in italiano che arriva ai nostri cittadini. E quindi, ecco, per cui, come dire, e tra queste ci sono anche le infrastrutture. E le infrastrutture, quelle sono quelle che fanno funzionare il Paese. Alcune sono particolarmente critiche e rientrano nel perimetro nazionale, e altre invece, come dire, apparentemente lo sono meno, ma in fondo in realtà sono delle porte d'ingresso. E non sono meno importanti di quelle fisiche. Proviamo a immaginare per un secondo una vita senza internet. Cioè, immaginiamoci un momento in cui improvvisamente ci troviamo senza internet, e quindi andiamo al supermercato, non ci danno da mangiare, non ci danno la spesa. Andiamo al banco, ma non ci danno i soldi. Noi riusciamo a telefonare, come abbiamo detto prima. Dopodiché vogliamo cercare qualcosa per vedere cosa è successo sul motore di ricerca, e quello ovviamente non funziona. Già a GPT non ne parliamo, i social nemmeno non ci danno risposte, Whatsapp pure non funziona, accendiamo la televisione. E i giornalisti dicono, non abbiamo abbastanza informazioni, perché anche qua non funziona nulla, ammesso che riescano ad arrivare. Prendiamo la macchina, e il GPS non va, perché ricordiamoci che anche quella è una rete, GPS o il sistema europeo, anche quella è una rete, non necessariamente fatta solo di internet, quella è un protocollo, TCP, IP, ma è anche una rete, quindi non ci rimane che la radio. Si sentirà qualcosa via FM, ma pure loro saranno in grosse difficoltà. Ci chiudiamo in casa e diciamo, vabbè, guardiamoci qualche vecchia foto di famiglia, eppure quelle le abbiamo sul cloud. Ecco, questo, un mondo spento così, fortunatamente, no? Giustamente c'è chi dice, vedo la gocciolina, non l'abbiamo mai sperimentato. E fino ad oggi non è mai successo, anche grazie a chi lo difende. Ok, e le istituzioni che lo difendono sono tante. Oggi, qui siamo con, forse, quella al centro di tutte, che è la CN. E quindi è un territorio da tutelare, non dico più di quello fisico, perché non ha zardo, però quello fisico ha tre porte, più o meno, mare, terra, cielo. Ci mancherebbe, molto complesse, molto complesse. Ma quello digitale ne ha milioni, milioni, potenzialmente aperte, non si sa nemmeno dove siano. No? E questo è il problema. Sono aperte dalle aziende, perché ci sono quelle del perimetro che devono rispettare certe regole, ma le altre, e ognuna di queste, è una porta d'ingresso, e da lì si passa il resto. E uno dice, vabbè, aggiorniamo i computer, teniamo le infrastrutture, cioè si pensa subito all'aspetto tecnico di questo. Quando in realtà, e lo vedo io tutti i giorni, la parte più debole di un computer è tra la tastiera e la sedia. Siamo noi umani la parte debole di un computer, perché è il punto d'ingresso. Il 99, adesso io sparo una cifra così percettiva, poi ovviamente le autorità lo diranno in modo più preciso, ma degli attacchi che vediamo, l'ospedale fermo, non è perché c'era una mancanza di capacità tecnica, perché una persona che aveva accesso al sistema ha cliccato su quell'offerta straordinaria con il telefonino a metà prezzo. Purtroppo questa è la verità. E questi piccoli errori mettono a rischio la società, come abbiamo visto prima, la libertà e perfino la democrazia. Il 2023 è stato un anno di pesanti aggressioni, l'apporto, la relazione, ne parla in modo approfondito. E il 2024, lo vedo io, e lo vedo confrontandomi con le istituzioni, pare peggio. Una cosa a cui tenevo, ovviamente la sicurezza è uno dei pilastri delle mie attività di divulgazione e di studio. È un momento in cui, secondo me, è poco noto cosa fa ACN, se mi posso permettere. Perché viene vista un po' come quella che risponde agli attacchi, quella che fa la guardia. Allora, per fare quello che fa ACN, deve fare prevenzione, perché ovviamente deve preoccuparsi che le persone siano consapevoli, che i sistemi siano adeguati. Deve fare formazione, consapevolezza, deve creare, fare ricerca, perché cambia tutto. Voi non avete idea di quanti ogni giorno nascono migliaia di, nel mondo hacking, si definiscono zero days, cioè ovvero vulnerabilità che vengono scoperte, vengono rese disponibili. Di solito c'è un mercato ricco, vengono vendute a centinaia di migliaia di euro, quelle più importanti. E bisogna quindi nel frattempo saperle, conoscerle, creare linee guida, policy, norme, monitoraggio, monitorare, e ovviamente rispondere agli attacchi anche grazie agli altri strumenti come la polizia postale. Io sono veramente felice di aver detto questo, perché a volte non ci sono le occasioni per farlo. Io cerco di farlo attraverso i mass media, attraverso ovviamente le varie attività, però anche queste sono occasioni importanti. Peraltro oggi è la prima vera, se posso dire, relazione, il primo vero evento, perché il primo della CN è durato, era la prima relazione appena nata a quattro mesi. Poi c'è stata la seconda, che purtroppo non è avvenuta per causa del Covid, e adesso eccola qui, la prima vera evento. Quindi sono molto onorato di essere qua, spero di aver dato informazioni che possano essere utili, abbiano stimolato l'interesse di qualcuno nel settore, perché non tutti pensano che l'informatica sia la cosa più appassionante del mondo, però a volte lo è, se vista dal punto giusto. Per cui grazie a tutti.